Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video del Gobbo Toscano, secondo video di giornata. Oggi andiamo a parlare, dopo che stamattina abbiamo aperto la nostra rubrica con lo scandalo dell'Inter, oggi andiamo a parlare di calcio mercato e ci sarà questo video e in più un terzo video di giornata per svelarvi altri due nomi molto 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 importanti, ma adesso prima di partire vi ricordo come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video, condividetelo con tutti i vostri amici, attivate la campanella per non perdervi aggiornamenti e quant'altro sulla Juventus e soprattutto commentate, ma commentate in modo costruttivo, in modo civile, educati, cioè santa miseria, sarà possibile che ad oggi non si riesca ad esprimere un concetto senza dire quelle solite parole che tanto vi piacciono ma che io ultimamente non tollero anche perché comunque il mio lessico per forza di cose da quando una bambina che assorbe tutto come una spugna debba essere completamente diverso da quando era un ragazzetto senza un briciolo di cervello. Detto questo cominciamo subito con il video, oggi parliamo di un attaccante, parliamo di un attaccante che nonostante le tante rassicurazioni e le tantissime ultime buonissime prove può essere ceduto e sacrificato nel mercato estivo perché intanto vi dico di chi si tratta? Si tratta ovviamente dell'uomo in copertina di Dusan Vlaovic e perché questo? Come vi abbiamo sempre detto il contratto di Vlaovic è destinato a fare due step nei prossimi due anni, la prossima stagione percepirà da 7 a 9 milioni di euro, in quella dopo ancora arriverà direttamente a 12, cosa un po' impensabile per le casse della Juventus, soprattutto vista la linea verde portata avanti da Giuntoli e Company. Quindi c'è un ragionamento importante da fare e qual è? È quello di cercare di massimizzare le entrate e limitare ovviamente ingaggi esosi. Abbiamo parlato di Chiesa, quindi come non parlare di Dusan Vlaovic che con quel contratto potrebbe essere il prossimo a finire sull'agenda dei partenti in casa Juventus. Allora Vlaovic è un giocatore che può garantire tanti gol, per carità ci auguriamo tutti che quest'anno torni sugli standard dei 20 gol, per carità o anche superarli, è già 11, quindi non c'è diciamo da questo punto di vista da perdersi d'animo, però ci sono tanti altri giocatori che ti possono garantire gli stessi gol e comunque Vlaovic non ti dà una certezza in fatto di garanzie di gol, per carità è un bravissimo giocatore ma ha dei momenti sì, alternati a momenti no. Ci sta che con un nuovo allenatore o con un nuovo modo di interpretare il calcio anche dallo stesso Massimiliano Allegri possa essere ritornato e questo io ne sono pienamente soddisfatto e convinto, ma non cambia il fatto che quei 12 milioni rappresentano uno scoglio insormontabile per la Juventus, quindi cosa succederà se andrà a riparlare da qui all'estate prossima di un possibile prolungamento dell'ingaggio con spalmatura proprio di questo per poter continuare il rapporto tra Vlaovic e la Juventus. Detto questo, se dovessero arrivare offerte importanti e sicuramente se faranno un grande fine di stagione arriveranno, ci sarà la possibilità di cederlo. È ovvio che con due anni di contratto è molto difficile riproporre gli 80 milioni spesi dalla Juventus per acquistare il giocatore serbo, ma sicuramente si potrà arrivare sui 60-65 milioni. Con un rinnovo potremmo arrivare anche a 70 per la durata contrattuale, quindi il potere di vendita della Juventus e il non potere di acquisto di chi lo vuole, però è tutto da vedere. Ovviamente se la Juventus dovesse avere delle offerte intorno ai 60 milioni la prossima estate, la prossima sessione di mercato cederà o penserà molto probabilmente di cedere il giocatore. Anche perché come vi ho detto nel prossimo video ci sarà un annuncio importante, ci sono due attaccanti sul taccuino di giuntoli e hanno costi un po' diversi, ma tutti rientrano sia per età anagrafica che costo del cartellino nei parametri della Juventus di oggi e di domani. Quindi c'è solo da vedere come andranno gli incontri con Vlaovic. Io credo si possa arrivare a una conclusione positiva a livello di rinnovo, ma anche lì molto probabilmente sarà un rinnovo con la possibilità data dalla Juventus a Vlaovic di valutare ogni offerta sopra i 50 milioni di euro per la sessione del calciatore, perché non credo che Vlaovic voglia andare via, ma è proprio la Juventus che sta cercando di ripartire da un altro modo di interpretare la rosa. Partirà senza certezze, ma come continuerebbe anche con questi senza certezze, perché anche in caso di, facciamo tutti gli scongiuri e le corna del caso di vittoria di campionato quest'anno, che ormai sappiamo e non lo potremmo vincere mai perché è già stato assegnato di diritto a tavolino all'Inter, come ormai tutti ben sapete come gli altri trofei, però parti con giocatori altalenanti, vedi Chiesa, vedi Vlaovic, vedi i vari locatelli, quindi comunque non avresti certezze, se non una solidità difensiva, che quella è l'unica certezza da cui la Juventus deve e vuole ripartire per la prossima stagione. Ovviamente questo è un ragionamento che vi faccio in base a notizie che mi sono arrivate negli ultimi giorni, ma anche vedo che altri giornali oggi, proprio stamattina, mentre io stavo registrando il video, hanno cominciato a parlare di questa possibile uscita quindi di Vlaovic che può lasciare la Juventus. È ovvio sarebbe un dispiacere perché io vorrei sicuramente vedere un Vlaovic come con la Fiorentina, vorrei vedere un Vlaovic ritrovato, un Vlaovic costante, continuo, un bomber vero, ma gli errori quando si fanno stipulando dei contratti poi si vanno anche a pagare perché non puoi fare un contratto a salire vertiginosamente in quel modo per un giocatore che nel momento in cui l'hai comprato aveva dimostrato di essere un buon giocatore soltanto alla Fiorentina. Cioè non è che vai a prendere un giocatore da un Real Madrid che ha già vinto tutto, da un Liverpool, da un Barcellona, ma anche faccio un esempio, da una squadra come l'Inter, parliamoci chiaro perché se comunque l'Inter dell'anno scorso compri un Lautaro Martinez, allora per carità ha fatto tutto quello che poteva fare, quindi vedete io do a Cesare quel che è di Cesare sempre, quindi Lautaro Martinez secondo me in questo momento è uno dei migliori attaccanti della Serie A, però vai a prendere un giocatore che ha già dimostrato qualcosa in una squadra comunque di livello, nonostante a me non piaccia l'Inter però c'è da ovviamente essere obiettivi e dire che è di un'altra categoria in questo momento anche a livello di gioco, però lo prendi un Vlaovic da una Fiorentina che è finita in conference l'anno scorso e l'anno prima in cui l'hai preso Vlaovic, ha fatto un campionato veramente mediocre, che garanzie possiamo avere da un giocatore che ancora non ha espresso il suo potenziale in una grande squadra? È ovvio che andava fatto un contratto normale, non 7, poi arriva a 9, poi arriva a 12 perché diventa impensabile e ovviamente queste scelte poi le vai a pagare, quindi non riusciremo a riprendere sicuramente la cifra che abbiamo speso per comprarlo, ma l'unica sarebbe che facesse due gol a partita da qui a fine stagione, vincessimo Scudetto e Coppa Italia, allora potresti pensare di rivenderlo a 80 milioni forse anche qualcosa di più, ma ragazzi è un po' impensabile, per carità, noi ci speriamo tutti, ci speriamo veramente tutti e Vlaovic possa diventare quel tipo di giocatore, ma ho i miei dubbi, ho i miei dubbi perché come ho vissuto questi momenti di hype di Vlaovic ne ho vissuti tanti di down clamoroso, partite mesi interi senza segnare, senza essere incisivo, quindi sono tutte cose che verranno valutate prossimamente, saranno cose in divenire e quindi andremo a capire quale sarà il futuro di Vlaovic e il futuro della Juventus perché, ripeto, nel prossimo video vi svelerò due nomi importantissimi di due attaccanti che potrebbero nella prossima stagione sostituire proprio l'attaccante serbo Dusan Vlaovic. Io ragazzi vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi chiedo per l'ennesima volta di iscrivervi al canale, di lasciare like, condividere, commentare in modo civile, ricordo sempre il costruttivo e attivate la campanella per non perdervi altri aggiornamenti live calciomercato, post partita, live prepartita e il mondo Juventus a 360 gradi oltre ad avere anche sempre tanti ospiti ovviamente importanti per quanto mi riguarda. Ancora grazie, fino alla fine Forza Juve ci vediamo stasera prima di cena alle ore 18 con il video. Bomba!